Una ulteriore e straordinaria opportunità per mostrare a chi ancora non ha conosciuto le nostre eccellenze e soprattutto l'autenticità del nostro territorio, che riesce a mantenere intorno ai valori che ci contraddistinguono soprattutto a livello enogastronomico, ma non solo, manifatturiero e tante altre realtà, una bellezza intatta. Quanto è importante oggi più che mai concentrarsi sul nostro territorio e farlo conoscere? Io direi che è l'elemento essenziale, il marketing territoriale, il valore aggiunto dell'impressione, dell'idea che noi riusciamo a trasmettere della nostra regione è fondamentale per creare valore intorno alla nostra regione, al prodotto della nostra regione e soprattutto anche all'immaginario collettivo. Su questo stiamo lavorando, però vedo che già i primi risultati sono tangibili, è un trend positivo e dobbiamo cogliere questa occasione. L'esperienza di tipicità è un'esperienza assolutamente unica perché è riuscita e ha puntato fin dall'inizio del suo percorso da tantissimi anni fa ormai a costruire il binomio tra i prodotti e l'immagine della regione e credo che questo binomio sia cresciuto negli anni, sia diventato centrale e ha cercato anche di sopperire a una carenza che è sotto gli occhi di tutti. Oggi con tipicità noi abbiamo una vetrina intorno alla nostra regione, una vetrina che ci mostra, ci fa comprendere la qualità, l'eccellenza e come dicevo prima la forza dei prodotti del nostro territorio e dell'imprenditorialità dei nostri cittadini.